Con Fartigianato ormai da tempo è impegnata in un obiettivo che è quello di rendere fruibile e accessibile il credito d'imposta, soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo del superbonus. Con Credigaricol abbiamo siglato oggi un accordo importante per i nostri associati, per i nostri territori, con l'intento di dare un supporto finanziario e una facilitazione nell'ottenere questo credito d'imposta. Da qui potremmo partire, immagino, anche con altre iniziative volte sempre a supportare il nostro mondo imprenditoriale e quindi siamo convinti che oggi possa essere l'inizio di una proficua e buona collaborazione. Speriamo che il percorso sia un percorso proficuo per entrambi e che possa essere di sostegno, di aiuto per il rilancio dei territori e del nostro mondo imprenditoriale. Intanto per Credigaricol è un piacere riuscire a consolidare questa relazione, ci tenevamo particolarmente perché con Confartigianato nazionale condividiamo degli obiettivi, delle strategie e dei principi, quello dell'attenzione ai territori, alle aziende di piccole e medie dimensioni che lavorano sui territori e che rappresentano il tessuto sociale importante dell'Italia e di conseguenza quello che è il nostro core business. Quindi abbiamo firmato questa convenzione che è un punto di partenza, contiamo di svilupparla sempre di più, di sviluppare relazioni, di sviluppare strategie, di fare la nostra parte assieme a Confartigianato per lo sviluppo del Paese e per lo sviluppo dei territori perché credo che questo sia il modo giusto di fare banca.